L'opera svelata stamani in piazza Montegrappa apre ufficialmente la Design Week targata varese che nonostante covid, ordinanze, restrizioni e coprifuoco non rinuncia a dibattere di bellezza, cultura e gusto che da estetico diventa etico, da proposta si fa ricerca, analisi di antiche sembianze e di nuove suggestioni, proprio come l'inedito cappello che riveste la fontana del centro. Questa installazione a cura di Il Vespaio si intitola Quale Design? Il punto importante nella città ci chiede di ragionare su quello che è il futuro del design e dell'economia. Quale design? Il design che va e il design che non va. Il design che non va che è il design, l'economia lineare e il design che va che è l'economia circolare e quindi siamo qui proprio per porci questa domanda. Fino al 24 ottobre la design si articolerà in una serie di appuntamenti e dibattiti fisiologicamente trasferiti su internet e soprattutto di installazioni sfoggiate dalle vetrine dei negozi e custodite nelle teche disseminate qua e là nei punti chiave della città. Quindi avremo una serie di box interattivi che contengono al loro interno degli oggetti di design, dei designer che appunto hanno partecipato alla nostra manifestazione. Sono collocati due in piazza Monte Grappa, uno in piazza San Vittore, dopodiché in piazza Carducci e presso i giardini estensi, cioè nei luoghi nevralgici della nostra città. Quindi sarà un'occasione per fare un giro per i nostri vicoli del centro storico e per curiosare e respirare aria di design. Un antidoto alla paura? Forse l'importante, spiega l'anima della settimana design Nicoletta Romano, è reagire, muoversi, esprimersi e poter dire una buona volta. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo voluto sfidare questi momenti particolarmente difficili, ma abbiamo ritenuto che veramente Varese e i Varesini meritassero qualche cosa, qualche cosa che ci proiettasse nel bello e anche nell'etica, ma che veramente ci cambiasse da questa ossessione che incombe da qualche mese.